La rete è il futuro e Facebook è un elemento di marketing fondamentale. Utilizzarlo nel modo più corretto non è semplice, ma facendolo in buon uso permette di creare campagne pubblicitarie mirate, esattamente sui soggetti che cercano i prodotti che vendiamo. Questo è stato il tema spiegato da Roberto De Grandi, docente di web marketing e dal gruppo di professionisti al suo seguito, nel convegno organizzato presso la sede Snydero SBA in collaborazione con la Banca Mediolano. Grazie a tutti.